ciao a tutti ragazzi qui è zio degli animali che parla se vi piacciono i camaleonti e state valutando se acquistarne uno o meno in questo video troverete tutte le informazioni che vi possono interessare per una corretta gestione di questi fantastici animali questo è un esemplare maschio di camaleonte caliptratus detto anche camaleonte velato o camaleonte dello Yemen la sua origine è asiatica viene appunto dallo Yemen ed è un camaleonte di piccole dimensioni le sue caratteristiche principali sono il colore verde con le striature gialle sui fianchi e il caratteristico elmo che ha sulla testa che per intenderci è quella specie di elmetto che ha sopra come se fosse una cresta e contraddistingue i maschi dalle femmine i maschi avranno un elmo molto sviluppato mentre le femmine ce lo avranno ma piccolino giusto giusto che si vede leggermente un altro metodo per sessare un camaleonte caliptratus è quello di vedere nelle zampe posteriori in pratica tra nella parte posteriore delle dita si vedrà una specie di sperone questo è presente solo ed esclusivamente nei maschi quindi se il nostro camaleonte ha lo sperone è un maschio e si riuscirà a vedere anche in un camaleonte appena nato quindi il sessaggio per chi lo sa fare è sicuro al 100 per cento è un animale insettivoro anche se non è raro vedere il proprio camaleonte mangiare ogni tanto delle foglie o anche eventualmente della verdura se gli viene offerta quindi hanno una dieta anche abbastanza varia rispetto a quello che si pensa e questo è un passaggio fondamentale perché io consiglio totalmente di inserire piante finte all'interno del terrario perché se il camaleonte non si rende conto che la pianta è finta andrà a mangiarsi le foglie mangiando plastica portandolo sicuramente alla morte i camaleonti in genere ma parlando in questo video nello specifico del camaleonte caliptratus o velato dell'oim come lo volete chiamare sarà avere una temperatura sotto la lampada di circa 30 32 gradi e un uvb al 5 per cento questo uvb potrà essere sia una lampada compatta quelle a forma a coda di maiale per intenderci oppure potrà anche essere un neon anche se tenderà a essere più costoso il camaleontario dovrà essere sviluppato in altezza e dovrà essere completamente in rete questo perché al camaleonte serve un ricircolo d'aria abbondante in modo che non ci siano ristagni di umidità una volta che il nostro camaleontario sarà pronto con le sue lampade esterne lampade esterne mi raccomando dentro una buona quantità di rami di liane di piante vere dovrà essere nebulizzato circa una volta al giorno il nostro camaleontario sarà pronto per ospitare il nostro camaleonte una cosa importante è che il camaleonte soffre molto velocemente lo stress quindi sarà importante non disturbarlo non fissarlo non avere altri animali domestici come magari un gatto un cane o anche un papagallo che non gli ronzino attorno perché il camaleonte si stressa molto velocemente e questo lo porta a smettere di mangiare smettere di bere e si lascia morire nell'arco di qualche settimana quindi sarà molto importante lasciarlo il più tranquillo possibile e guardarlo ogni tanto sono animali estremamente interessanti perché in base al periodo alla stagione anche in come magari ci andiamo interagire cambiano colore non come si vede magari nei film o nei cartoni animati ma hanno delle variazioni cromatiche molto più limitate ho fatto un video a riguardo e ve lo lascio alla fine di questo video sono tendenzialmente molto burberi quindi se lo andremo a prendere o a farci qualcosa come vedete subito andrà ad aprire la bocca e non esiterà neanche per un istante a dare dei morsi i morsi possono essere particolarmente dolorosi perché hanno una forza nelle mandibole molto interessante e possono dare dei bei pizzicotti quindi se il vostro camaleonte apre la bocca prestate sempre molta attenzione se lo doveste maneggiare per un qualunque motivo che magari lo dovete portare dal veterinario bisogna afferrarlo dietro alle mandibole come sto facendo io in questo caso in modo che anche se lui apre la bocca non ha modo di girare all'improvviso la testa e mordere sono molto veloci quindi se viene afferrato in maniera incauta come magari lo sto tenendo così adesso lui in un attimo si gira e morde quindi sempre molta attenzione anche perché questo adesso non è a taglia massima è ancora abbastanza giovane nonostante sia già riproduttivo però quando sono belli grossi danno dei morsi belli importanti quindi mi raccomando fate attenzione un camaleonte andrà a mordere solo ed esclusivamente quando viene afferrato è difficile che punti a mordere così all'improvviso anche se ogni tanto magari basta avvicinare la mano dentro alla teca per magari andare a togliere una foglia secca e subito si metterà in posa con gli occhi spalancati e la bocca aperta pronto a eventualmente a scattare e mordere quindi dateci sempre un occhio di riguardo purtroppo il camaleonte è il rettile meno longevo in assoluto parliamo di 5 6 7 anni per i maschi e 1 2 anni meno per le femmine quindi è purtroppo il rettile meno longevo in assoluto anche perché andando a prendere un qualunque altro rettile come potrebbe essere ad esempio un gecko leopardino vivono tranquillamente 15 20 anni quindi veramente questo animale vive poco questo perché hanno un ciclo vitale molto veloce e anche perché quando si riproducono fanno veramente tanti tanti piccoli quindi la natura ha deciso di farlo vivere poco perché fa tanti piccoli quando si riproduce la riproduzione è un tasto molto dolente perché purtroppo la maggior parte delle femmine muore durante la deposizione perché non riesce a fare le uova morendo di distocia è un problema molto 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 frequente infatti io ho provato più volte a riprodurre dei camaleonti pardalis però in questo caso quindi quelli del madagascar e non questi e purtroppo ho fallito questo è il mio maschio riproduttore o anche una femmina e diciamo che loro sono il mio ultimo tentativo se anche la femmina che ho dovesse avere problemi e morire durante la deposizione o comunque avere complicazioni durante la gravidanza ufficialmente smetterò di provare ad allevare camaleonti perché mi fa troppo peccato vedere degli animali morire quindi piuttosto che rischiare non lo faccio e ho risolto diciamo ogni problema la bellezza del camaleonte sta nel guardarlo quando è nella sua teca quando magari non ha visto che lo stiamo guardando e lui è lì nel suo terrario fermo solitamente fa finta di non esserci quindi tenderà sempre un po mimetizzarsi rimane in mezzo alle foglie sta un po nascosto che è un classico avvicinarsi alla teca vedere ci sono tipo tutte le foglie si vede solo l'occhio che ti guarda in mezzo alle foglie perché sta controllando com'è la situazione è molto bello da vedere perché dà proprio un'idea di natura di di selvatico è proprio secondo me è piacevole avere un camaleontario a casa nonostante magari per qualcuno possa possa non essere l'animale più indicato proprio perché è un animale che tende a essere un po nascosto a farci vedere poco a mimetizzarsi quindi io vi consiglio sempre di pensarci molto molto bene prima di acquistare un camaleonte bisognerà prestare particolarmente attenzione a tre cose gli occhi il naso e la lingua questo perché sono diciamo le parti dove principalmente i camaleonti possono riscontrare problemi gli occhi devono essere sempre belli tondi e belli e belli sporgenti se l'occhio dovesse essere tipo ristretto come se stesse strizzando gli occhi potrebbe essere un problema solitamente la prima causa è un po di disidratazione quindi bisognerà aumentare le nebulizzazioni per qualche giorno il camaleonte si andrà a dissetare e l'occhio tornerà normale il naso quindi le narici dovranno essere sempre belle pulite senza croste senza muco senza niente perché soffrono molto velocemente all'apparato respiratorio e la lingua deve essere sempre bella rosa e devono sempre sempre spararla quando c'è un grillo una cavalletta un qualcosa il camaleonte deve sparare la lingua in maniera corretta perché solitamente se ha problemi a spararla che la spara poco è corta cioè si vede che c'è qualcosa che non va solitamente la causa principale è la carenza di calcio quindi bisognerà integrare molto bene la dieta in modo da o evitare questo problema o eventualmente da provare a recuperarlo se fosse negli stadi iniziali se fosse negli stadi già un po più avanzati l'unico che può aiutare è un veterinario specializzato in animali esotici mi sembra di aver detto le cose principali su questo fantastico animale vi ricordo che appunto non è un animale adatto a tutti dato che deve essere toccato il meno possibile deve vivere in un ambiente tranquillo quindi senza animali che lo vadano a puntare o magari bambini che gli strillino sotto al terrario quindi non è adatto a tutti pensateci sempre molto bene però nel caso voi decideste di acquistarlo vi posso dire che un animale veramente veramente interessante e meraviglioso come sempre per qualsiasi dubbio domanda o curiosità mi potete lasciare un commento o scrivermi sui miei social mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti